. Rita dalla Chiesa, Fabrizio Frizzi? Ho avuto paura. Non faccio come Romina Power che dice di amare ancora Albano. . Rita dalla Chiesa è ospite di Merissimo nella puntata di sabato 10 febbraio, in onda dalle 16 su Canale 5. . Ecco cosa dichiara Silvia Toffanin. Rita dalla Chiesa parla dell'ex compagno Fabrizio Frizzi. . La conduttrice parla dell'ischemia che ha colpito il 23 ottobre il suo ex compagno Fabrizio Frizzi, auguro a Fabrizio di continuare a trovare la forza per combattere come sta facendo adesso. Lui è un vero guerriero e lo sta facendo per la sua bambina Stella e per sua moglie Carlotta. . E ricorda quel drammatico giorno in cui è stato male, avrei voluto correre da lui, ma le seconde famiglie vanno rispettate. . Per questo ho pensato che fosse giusto restare a casa e rimanere in contatto con Carlotta che mi dava notizie. . A Silvia Toffanin, che le chiede se abbia avuto paura per il conduttore, Rita risponde, si ho avuto paura. . Non nego che Fabrizio sia stato l'uomo più importante della mia vita. . Rita dalla Chiesa, terribile la morte di mio genero Massimo. . Il 2017 per Rita dalla Chiesa è stato un anno difficile non solo per il problema di salute di Fabrizio Frizzi. . . Sua figlia Giulia ha perso, a causa di una brutta malattia, il marito Massimo. . A tal proposito confida, è stato terribile, perché Massimo aveva tanti progetti. . . Mia figlia Giulia è una donna molto forte e mi rende orgogliosa. . È vissuta per cinque anni a fianco a Massimo, nel corso della lunga malattia, senza dire nulla, rispettando il volere di suo marito. . Rita dalla Chiesa, non faccio come Romina che ha detto di amare ancora Albano. . . Sugli ultimi sviluppi della storia d'amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso e sulle dichiarazioni che Romina Power aveva fatto proprio a Verissimo, la conduttrice, amica storica di Albano, confida, non mi sento di fare come Romina che ha detto, magari scherzando, che ama ancora Albano, dico, di Fabrizio Frizzi, NDR, che gli voglio bene perché rispetto le seconde famiglie. . . Rita dalla Chiesa, ecco il mio uomo ideale. . . La presentatrice, che da febbraio sarà al timone di italiani ieri e oggi un talk show sulla storia e sul costumi del nostro paese, in seconda serata su Rete4, sogna di reinnamorarsi. . . . . . . .